Ciao ragazzi, mi chiamo Francesco Sacchini, sono ancora uno studente presso l'Istituto Naudimolari di Rimini. Principalmente sono andato da Luca perché avevo bisogno in matematica, ma poi mi sono fatto aiutare anche in chimica, fisica e disegno tecnico. Mi è piaciuto il modo con cui spiegava, è semplificato e schematizzato. È un ragazzo molto bravo, onesto, giovane, sincero, che vuol dire molto. Mi sono trovato benissimo a mio agio, lo consiglio vivamente e ho portato due miei amici.